Sono Giuseppe Cocco e sto viaggiando lungo il Lazio dei Sapori per raccontare e suggerire a turisti e viaggiatori del gusto territori, luoghi, produzioni agroalimentari tipiche che rappresentano le biodiversità e le identità materiali e immateriali dell'Italia. L'Alto Reatino è montano e appartato. Nell'Alta Valle del Tronto, a 955 metri di quota, Amatrice è cittadina ridisegnata dopo le distruzioni belliche del 1529 da Nicola Filotesio, pittore e architetto, il più illustre dei suoi figli, sotto lo pseudonimo di Cola dell'Amatrice. Nel nucleo storico sono monumenti di risalto la Torre Civica e le chiese di San Francesco, romanico-gotica, e di Sant'Agostino, quattrocentesca. Notevole meta di turismo devozionale è il Santuario della Madonna delle Grazie, o dell'icona Passatora, con affreschi del 400-500. Eppure Amatrice è nota in più per la romanesca amatriciana, ovvero la pasta, bucatini o spaghetti conditi alla moda dei pastori d'Appennino. Locale è soprattutto la qualificata produzione di salumeria, prosciutto amatriciano IGP, mortadelle suine di piccola pezzatura, simili a quelle di Campotosto, in Abruzzo, e casearia, caciotte, ricotte, pecorini freschi e stagionati. Buone mortadelline e caciotte si gustano anche ad accumuli, poco a nord. Parte del territorio della zona è tutelato nell'ambito del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Amatrice, anche con l'articolo l'amatrice e l'amatrici in dialetto sabino, è un comune della provincia di Rieti, nel Lazio, i cui abitanti sono detti amatriciani, appartenuto storicamente all'Abruzzo sotto i regni di Sicilia, di Napoli, delle due Sicilie e d'Italia, venendo inclusa di volta in volta nel giustizierato d'Abruzzo dal 1265 al 1273, nell'Abruzzo ulteriore dal 1273 al 1806, nell'Abruzzo ulteriore secondo dal 1806 al 1860 e nella provincia dell'Aquila dal 1860 al 1927. Dal 1806 al 1926 fu parte del distretto e poi del circondario di città ducale. Sede del Polo Agroalimentare del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, fa parte della comunità montana del Velino e da 2015 del Club dei Borghi Più Belli d'Italia. Situata in un'area altamente sismica, è stata più volte devastata dai terremoti, l'ultimo dei quali nel 2016, che ne ha completamente distrutto la parte antica. Amatrice è situata al centro di una conca verdeggiante, incastonata a sua volta in un'area di confine tra quattro regioni italiane, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, in una zona strategica di passaggio tra avversante adriatico e tirrenico, nell'alto bacino idrografico del fiume Tronto. Il suo territorio si articola in un alto piano centrale con un'altitudine compresa tra i 900 e i 1000 metri, ospitante il lago di Scandarello, un bacino artificiale ottenuto mediante lo sbarramento del rio Scandarello nel 1924, ad uso di produzione dell'energia elettrica. Reperti archeologici dimostrano che la conca da Amatrice fu abitata dall'uomo sin dall'età preistorica. La vicinanza al tracciato dell'antica via Salaria favorì lo sviluppo di insediamenti nel territorio amatriciano, già in epoca preromana. All'epoca romana risalgono i resti di edifici e tombe rinvenute in diverse zone del territorio. Era nota agli scrittori romani come Summa Villarum, termine con il quale si identificava per esteso tutta l'area attualmente occupata dal comune di Amatrice. Nel 568 i Longobardi invasero l'Italia e costituirono il Ducato di Spoleto, suddividendolo in Comitati e Gastaldati, e il territorio dell'odierna Amatrice passò così sotto il Comitato di Ascoli. Nel reggesto di Farfa sono ricordati per il periodo che va dalla metà del Settecento agli inizi del 1100 i nomi di molte località e villaggi dell'attuale comune e tra essi anche quello di Matrice, ricordato nel 1012. E ancora nel 1037, nel diploma con cui l'imperatore Corrado II conferma al vescovo di Ascoli i suoi possedimenti, in realtà il nome di Matrice compare in età ancora anteriore, nel 940, in un documento della chiesa terramana come confine in una concessione di beni, confermando già in quel periodo come la località fosse già punto di riferimento e di preminenza rispetto alle altre ville del territorio. Passata per un breve periodo, durante il 1200, sotto il dominio di Norcia, insieme al resto delle terre circostanti, e da questa restituita al vescovo di Ascoli intorno al 1255, contribuì all'edificazione della Rocca di Arquata per difendere Ascoli dalle mire espansionistiche degli Svevi, sotto il cui dominio cadde però intorno al 1265, al tempo del re Manfredi di Sicilia, entrando a far parte del regno di Sicilia e, in seguito, del regno di Napoli, col giustizierato d'Abruzzo, poi divenuto Abruzzo ulteriore. La città non volle sottostare al dominio angioino, e anzi, più volte, si ribellò apertamente, aspirando all'indipendenza e parteggiando per la parte ascolana. Nel 1271 e nel 1274 Carlo I d'Angio inviò degli eserciti per debellare la resistenza degli amatriciani e ridurre la città all'obbedienza. Contemporaneamente si assistette alla scomparsa dei baroni e alla formazione dell'universitas con a capo amatrice, cioè di un comune in territorio liberamente organizzato, relativamente autonomo dal potere centrale, che si governava tramite un Parlamento. In questo periodo amatrice assommò sotto la sua giurisdizione tutti i castelli appartenenti al comitato di rieti, sulla sinistra del tronto, e quelli del territorio. L'influenza della città si estese quindi su un territorio che andava da Campotosto sino ai confini di Città Reale, ma anche su molti castelli e villaggi sul versante terramano. Amatrice partecipò alle crociate e da questo trarrebbe origine la croce che brilla sullo stemma comunale. Nel 1300 e 1400 Amatrice fu in continua lotta con le città e i castelli circostanti per questioni di confine e prestigio. Sono rimasti famosi i conflitti con Norcia, Arquata e anche con l'Aquila, nei quali tradizionale alleata di Amatrice fu la città di Ascoli. Inoltre gli Amatriciani presero parte a fianco delle milizie comandate da Andrea Fortebraccio, conte di Montone, al lungo assedio dell'Aquila e alla battaglia finale del giugno 1424 che segnò la sconfitta di Braccio morto sul campo. Amatrice, durante i conflitti tra Angioini ed Aragonesi per il possesso del regno di Napoli, sostenne tenacemente i secondi. Il sovrano aragonese Ferdinando, sedata alla rivolta dei baroni nel 1485, nell'anno seguente ricompensò Amatrice, concedendole il privilegio di battere moneta con il motto Fidelis Amatrix. Tuttavia, nel febbraio 1529, dopo un'eroica resistenza, venne riconquistata e messa a ferro e fuoco da Filiberto di Calons, generale di Carlo V. Per punire la ribellione, Carlo V nel 1538 diede lo stato di Amatrice in feudo ad un suo capitano, Alessandro Vitelli, e Amatrice venne così a perdere il suo stato di universitas demaniale, durata oltre 200 anni. Successivamente, tra il 1582 e il 1692, per matrimonio di Beatrice Vitelli, nipote di Alessandro, visse sotto il dominio degli Orsini di Mentana, del ramo di Bracciano. Nel 1693, dopo la morte di Alessandro, primo e ultimo principe Orsini di Amatrice, riconosciuto reo dell'uxoricidio, avvenuto nel 1648, proprio in Amatrice, della moglie Anna Maria, figlia di Gaspare Caffarelli, Duca di Assergi, per il quale fu condannato a scontare una trentennale prigionia in Castel Sant'Angelo a Roma. Fu acquisita come feudo, contro le pretese degli Orsini di Gravina, per 28.000 ducati da Vittoria Montefeltro della Rovere, nipote di Livia della Rovere, e pronipote di Isabella Vitelli, sorella di Beatrice, e vedova del Gran Duca Ferdinando II de' Medici di Firenze, che la conservarono fino al 1737. Nel 1735, Carlo di Borbone, nuovo re di Napoli, come erede di Elisabetta Farnese, rinunciò alla sovranità sul Ducato di Parma e Piacenza e sul Gran Ducato di Toscana, trattenendo tutti gli altri beni che appartenevano alle case Farnese e Medici, che andarono a costituire gli stati mediceo-farnesiani d'Abruzzo, come patrimonio personale del sovrano, tra i quali era compresa anche Amatrice, che nel 1759 passarono poi in eredità a suo figlio Ferdinando. Nel 1639 Amatrice fu gravemente danneggiata dal terribile terremoto dei giorni 7, 14 e 17 ottobre, durante il quale cadde buona parte del Palazzo degli Orsini, come pure la maggior parte delle case e delle chiese, e in cui, si stima, morirono più di 8.000 persone. Altri terremoti avvennero nel 1672, nel 1703 e nel 1730. Sul finire del 1700 e per tutto il secolo successivo, il territorio amatriciano, come buona parte dello Stato Pontificio e del Regno di Napoli, fu interessato dal fenomeno del brigantaggio, che divenne a sfondo politico e sociale e si ampliò fortemente nell'intero Aquilano dal 1861, quando avvenne l'annessione del Regno delle Due Sicilie da parte del Regno di Sardegna con a capo Vittorio Emanuele II. In epoca napoleonica, con la proclamazione della Repubblica Napoletana, il 23 gennaio 1799, il generale Championet con un decreto del 9 febbraio 1799 divise il territorio in undici dipartimenti e Amatrice costituiva uno dei sedici cantoni del Dipartimento della Pescara con capoluogo l'Aquila. Poi, tornata sotto il Regno di Napoli, fu inclusa nell'Abruzzo Ulteriore II, nel circondario di città ducale. Con l'unità d'Italia, Amatrice fu inserita quindi nell'Abruzzo Aquilano e solo nel 1927, con la creazione della provincia di Rieti, la città entrò a far parte del Lazio.